Ciao a tutti ragazzi, il vostro Paolo Spau 07 Oggi Breaking News Breaking News è arrivata pochi minuti fa la decisione della Lega durante l'assemblea straordinaria indetta appunto quest'oggi è stata sospesa la 6EB infatti i turni previsti inizialmente per il 26 e il 29 di dicembre sono stati rinviati a data da destinarsi per via del Covid ci sono tantissimi casi Covid in molte squadre di 6EB la Lega B ha giustamente optato che non è possibile andare avanti per via del crescere dei contagi nelle varie rose e dunque ha deciso di sospendere questi due turni questo dovuto appunto al fatto che in diverse squadre mi viene in mente Vicenza, Lascoli, Pisa, Lecce il Pordenone e altre nonché nella SPAL di cui adesso ne parleremo ci sono diversi casi di positività nel gruppo squadra al Covid-19 a Ferrara si registra senz'altro la situazione più drastica più drammatica di tutte fonti abbastanza affidabili e recenti parlano di oltre 20 positivi nel gruppo squadra un disastro, un vero e proprio focolaio che ha colpito tutta la squadra e i segnali c'erano già da qualche giorno infatti dopo subito prima della partita di Froginone dove i positivi erano due e sono saliti il giorno stesso della partita a cinque gara che si è comunque giocata già il giorno dopo si parlava di numeri ben più grandi ed è stata addirittura sospesa la prevendita per le partite di Benevento e Pisa questo perché c'era già un po' la certezza che la situazione sarebbe stata grave il giorno stesso sono stati comunicati oltre 13 positivi che il giorno dopo o due giorni dopo sono saliti a più di 20 insomma praticamente c'è tutta la squadra in quarantena naturalmente non era possibile proseguire per noi le gare sarebbero state comunque rinviate si attendeva solo l'ufficialità dell'ASL di Ferrara che non credo abbia fatto tempo ad arrivare perché è stato direttamente sospeso il campionato comunque Giattacopina aveva detto che non avrebbe fatto giocare la squadra il che insomma era la decisione più giusta la situazione è veramente grave veramente drammatica prima di tutto mi intercore dire che bisogna pensare alla salute dei ragazzi colpiti quindi la cosa migliore è stata fatta è stata quella lì seguire il protocollo mettere in quarantena i ragazzi e mi auguro veramente che tutti stiano il meglio possibile insomma che non accusino più di tanto la malattia che in certi casi potrebbe farsi veramente grave quindi mi auguro veramente per loro che vada tutto bene e secondo è stata presa secondo me anche la decisione giusta perché visto il crescere dei casi in varie squadre mi sembra inutile dover andare a continuare anche nel Monza c'era stata anche qualche polemica qua e là del Monza che era stata sospesa la partita anche loro per via dei crescenti casi di positività io penso che la cosa più giusta sia stato proprio fermare tutto e dunque anticipare sostanzialmente la sosta che era prevista inizialmente dopo il 29 di gennaio fino al 29 di dicembre fino al 15 di gennaio quindi campionato a sospeso è inutile dire che è giusto così perché è così io mi auguro veramente che le cose vadano per il meglio per tutti quelli che sono coinvolti in questa storia perché insomma non è bella per niente e insomma potrebbe essere una bella botta potrebbe essere una bella botta soprattutto psicologica poi neanche tanto perché se il virus poi alla fine non viene accusato la botta fisica è relativa ma potrebbe essere veramente una battosta psicologica quindi è giusto che sia stato fermato il campionato adesso pensiamo a riprendere a riprenderci tutti mi riferisco ai giocatori mi riferisco a chi è stato contagiatto al virus il calendario verrà stilato dunque ci sarà una variazione del calendario le date saranno adesso non si sa ancora in che modalità se le partite verranno anticipate un turno verrà anticipato prima del 15 di gennaio un altro verrà inserito un turno fra settimanale in più insomma ci sono delle modalità un po' discordanti che verranno decise in seguito ma per il momento ragazzi è giusto così quindi niente Serie B fino a probabilmente il 15 di gennaio speriamo che insomma la portata di questa cosa non si espandi ulteriormente perché fa molto male questa cosa fa molto male a tutti quindi ragazzi anche per oggi se andate alla fine del video scrivetevi nei commenti cosa ne pensate ma insomma c'è ben poco da pensare secondo me noi a questo punto ci rivediamo sicuramente l'anno prossimo è il modo più triste che ho di potervi augurare buon Natale e buon anno perché insomma non mi andava di farlo così però purtroppo le condizioni sono queste in ogni caso ragazzi buone feste di Natale buon anno nuovo e speriamo che l'anno prossimo ci porti un'avventata un po' più di di felicità di ottimismo su tutti sia sul lato sportivo da parte nostra ma soprattutto anche sui altri lati perché insomma non se ne può più veramente non se ne può più noi ci vediamo al prossimo video ragazzi buon Natale buon anno e se per forza spalo buon anno